Matteo! 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 Il ministro Del Rio con l'accordo dei sindacati, di alcune sindacati, del presidente della regione Calabria ha finanziato la Cassa di integrazione per il seno del porto di Giovedevo. M.C.T. dichiarava che non esternizzava lavoro alle liste esterne, per l'amor di Dio, lo faceva, lo faceva, lo faceva. Non solo, durante la Cassa di integrazione, chi del 2003, del 1998 è stato licenziato e è mandato a casa con delle griglie create ad hoc. Qua dentro c'è una documentazione che ti consegno, se no la darei pure al tuo amico Carmen. Sì, che no, ma dipende dalle infrastrutture, comunque ne parla un collega. M.C.T. ci hanno preso il peso sulla Calabria. M.C.T. è la prima volta che ho l'onore di parlare tutti, tu non sei il ministro della Badagna ma sei il ministro dell'Italia. M.C.T. quello che mi interessa a me è come mai durante la Cassa di integrazione del 2014 le ditte esterne fanno già una ditta esterna. M.C.T. e gli sindacati dove sono? Dov'è la vigilanza? M.C.T. un'agenzia fantastica. 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 M.C.T. un'agenzia fantastica.